Da noi la tecnologia è potenziata! Wow! Sì, proprio così, è potenziata! E cosa significa questo? Potenziata perché abbiamo ben tre ore e non due di tecnologia! Un'ora dedicata al studio dell'informatica e della creatività tecnologica! Qui non solo usiamo i computer, ma anche ad utilizzare il modo consapevole e navigare l'internet con attenzione! Grazie a tutti! A presto! Grazie a tutti! 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 Alla Scuola Media Nicola Festa! Let's go! Grazie a tutti! Grazie a tutti!